Capitolo 27. Le mie parole in punto di morte sono super imbarazzanti. Bramavo i bei tempi andati quando dovevo lottare uno contro uno con il dio della guerra Ares, che mi attaccava con la sua spada ammazza da baseball, sguinzagliava cinghiali giganti per farmi calpestare e mi guardava torvo con i suoi occhi nucleari. Sì, erano tempi più semplici, quelli. Adesso ero incastrato in una lotta all'ultimo sangue con Gary, il dio dell'alitosi con il pannolone. E stavo perdendo. Tentai di spingermi contro di lui, di rimettermi in piedi a forza. Era come spingere contro il tetto di una galleria. Mi girai di lato, usando il peso del suo corpo per togliermelo di dosso. Strisciai via boccheggiando, ed ebbi a malapena il tempo per rialzarmi prima che mi piombasse di nuovo addosso, avvolgendomi un braccio intorno al collo. Mi strinse in una presa di testa laterale, costringendomi a tenere il viso pericolosamente vicino alla sua ascella. Avrei tanto voluto non essermi tolto dalle narici quei fazzolettini mentolati. Oh no, ridacchiò Gary. Non puoi sfuggire alla vecchiaia. Tecnicamente non è vero, gridò Grover. Esercizi come la corsa possono allungarti la vita. Gary ringhiò. Taci satiro, niente interferenze. Non è un'interferenza, ribatte Annabeth. È telecronaca. Ogni incontro di wrestling ce l'ha. Il diversivo mi fece guadagnare una manciata di secondi, che mi piacerebbe poter dire di aver utilizzato per elaborare un piano d'azione. Invece il mio processo mentale fu... Oddei, sto per morire. Aiuto. Ai, ascella, ascella. Che non soddisfaceva i criteri di piano d'azione. Strascicando i piedi tentai di spostarmi di lato. Gary mi teneva stretto. Spinsi in avanti con tutto il peso. Mi piegai all'indietro, sperando di fargli perdere l'equilibrio. Anche se quel tipo era la metà di me, non si mosse di un millimetro. Dove staresti andando? Con la mano libera mi diede un pugno nelle costole. Il suono che mi uscì dalla gola avrebbe avvisato qualsiasi tricheco nel raggio di tre chilometri, che stavo cercando compagnia. Ammunizione, gridò Grover. Dieci metri di penalità. Niente colpi sul corpo, concordò Annabeth. Così non è wrestling. Chiodete il becco, si lamentò Gary. Mentre il dio aveva l'attenzione divisa, mi liberai dalla presa. Gli cinsi il petto con le braccia e strinsi con tutte le mie forze. Strattonai e spinsi, ma non riuscii a spostarlo. Gary rise. Ti diverti? Non avevo l'energia per rispondere. Perlomeno non mi stava ancora spalmando la faccia per terra. Finché lo divertivo, sembrava contento di lasciarmi fare la figura dell'idiota più assoluto. Per fortuna, questo rientrava nella mia lista di superpoteri. Doveva esserci un trucco per abbattere quel tipo. Qualcosa di diverso dalla forza bruta, che era un potere ridicolo posseduto soltanto dal ridicolo Ercole, che era appunto ridicolo. Forse Gary aveva un pulsante di spegnimento. Forse aveva paura di qualcosa che potevo usare contro di lui. Cosa combatte la vecchiaia? Antiossidanti. Parole crociate. Integratori di fibre. Mi resi conto che stavo delirando per il dolore e per l'intenso odore di anziano che sentivo. Una volta, durante gli addestramenti, Chirone mi aveva spiegato che in una situazione potenzialmente mortale, la cosa più importante è mantenere la calma. Quando sei entrato in modalità attacco o fuga, sei troppo impaurito per pensare con chiarezza. Così ti fai ammazzare. Purtroppo io non ero calmo, non potevo attaccare né fuggire e avevo appena finito gli integratori di fibre. Tentai la mia carta segreta. Evocai la rabbia, la canalizzai nella bocca dello stomaco e mi rivolsi al potere illimitato del mare. Eravamo a Manhattan, poco sopra il livello del mare, circondati da importanti fiumi proprio accanto all'Atlantico. Senz'altro avrei potuto attingere alla potenza di mio padre, richiamare quella grande forza in modo che combattesse per me. Lanciai un urlo primordiale. A metà di Washington Square Park saltò in aria la griglia di un unico tombino. Un geyser spruzzò le cime degli alberi, poi pian piano si spense. Impressionante, commentò Gary. Ora vogliamo concludere? Mi strappò dal proprio torace come se fossi una zecca, poi mi scaraventò dall'altra parte del parco giochi. Persi! gridò Annabeth. Il suo tono preoccupato fu l'unica cosa che mi salvò. Mentre veleggiavo per aria, la voce di Annabeth elettrizzò ogni molecola del mio corpo. I miei sensi misero il turbo. Invece di schiantarmi contro la struttura da arrampicata, girai a mezz'aria, afferrai una sbarra, ruotai su me stesso e atterrai in piedi. Le spalle mi pulsavano. Probabilmente mi ero slogato entrambe le braccia, ma non mi ero rotto la schiena né, insomma, ero morto. Avanzai barcollando. Piccole sfere di luce mi danzavano negli occhi. Gary guardò torvo Annabeth e Grover. Se uno di voi interferisce ancora, dichiarerò nullo l'incontro. Vi trasformerò tutti e tre in cartocci di mais essiccato. Annabeth si acquattò con il pugnale in mano, pronta a colpire. Grover le afferrò il braccio per evitare che si lanciasse nella lotta. Non che Annabeth potesse ferire la vecchiaia con un pugnale, ma questo non le avrebbe impedito di provarci. Per quanto apprezzassi il gesto, non potevo farle correre quel rischio. Da questa parte, pannolone bello, gridai. Sono io il tuo avversario. Gary si girò, stringendo gli occhi. Proprio così. Dopodiché caricò. Beh, ho detto caricò, in realtà fu più un arrancare deciso. Feci in tempo a pensare, adesso un piano sarebbe fantastico. Poi Gary mi arrivò addosso. Mi placcò e mi spinse all'indietro, dritto contro un palo da tetherball. Sentii la colonna vertebrale scricchiolare, ma il palo mi tenne in piedi, facendomi perfino un po' da leva. Strinsi le mani intorno ai bicipiti di Gary, con le braccia che gemevano. La mia visuale si dissolse in lampi stroboscopici in bianco e nero. Riuscii a spingerlo prima un passo avanti, poi due. Non era la forza a mandarmi avanti. Era la disperazione e la rimonta non durò. Il dio mi serrò le dita ossute intorno alle spalle. «Lasciatevelo dire, le spalle hanno un sacco di terminazioni nervose». Gary le trovò tutte. Mentre mi spingeva contro il palo urlai. Il metallo cominciò a piegarsi. «Hai resistito più di tanti altri», ammise il vecchio. «Non male come tentativo». «Non male come tentativo», riflettei, mentre la mia mente annegava nel dolore. «Fantastico! Non potevo vincere, ma almeno avrei ricevuto dalla vecchiaia un premio di partecipazione». Dopo avermi visto dissolvere in polvere, Annabeth avrebbe potuto incorniciare l'attestato e tenerlo in camera su al college una volta che si fosse iscritta alla New Rome University senza di me. Mi tremavano le gambe. Stretta fra Gary e il palo, la gabbia toracica mi sembrava il telaio di un pianoforte troppo teso, pronto a spezzarsi e a implodere. Pensai a quanto dolore avrei provocato ad Annabeth. Le avevo promesso che non l'avrei mai più lasciata. Il giorno in cui avremmo abbandonato questa vita volevo essere insieme a lei, fra tanti anni, quando saremmo stati vecchi e con i capelli grigi. Un attimo. Sentii tornarmi un po' di forza nelle gambe. Avevo sempre dei dolori atroci, ma forse venivo schiacciato più piano. Mi tornò in mente una cosa che mi aveva raccontato il mio amico Jason. In un momento di crisi aveva fatto un sogno in cui si era visto anziano, sposato con Piper e con un nugolo di nipotini che gli correva intorno. Non l'aveva interpretato come una visione certa del futuro. Quando si tratta di vite mortali, le parche non danno mai garanzie con tanto di rimborso. Ma Jason mi aveva spiegato che non era quello il punto. La volta che ne aveva avuto più bisogno, quella visione gli aveva fatto sentire che c'era una strada tracciata davanti a lui, qualcosa per cui vivere e lottare. Conficcai le dita con più forza nelle braccia di Gary. Colto di sorpresa, il dio grugnì. Pensai a una conversazione che avevo avuto con Paul qualche mese prima. Lo avevo preso in giro perché ogni anno aveva sempre più capelli grigi. Mi aveva risposto, ehi, invecchiare fa schifo, ma è comunque meglio dell'alternativa. Non lo avevo capito in quel momento. Le uniche opzioni erano davvero invecchiare o morire? Quando sei un semidio ti preoccupi parecchio di rimanere vivo. Non pensi quasi mai alla vecchiaia. Mi ero concentrato tanto sul fatto di riuscire a finire il liceo, diventare adulto. Però forse non era quello l'obiettivo finale. Invecchiare poteva essere spaventoso e difficile. Comportava cose a cui non volevo pensare, come l'artrite, le vene varicose e gli apparecchi acustici. Ma diventare vecchio con le persone che amavo non era meglio di ogni altra alternativa. Lanciai un'occhiata ad Annabeth e Grover. Avevamo vissuto così tante avventure insieme. Immaginai Annabeth con i capelli d'argento e le rughe, che ridacchiava mentre mi chiamava a testa d'alghe per la quadrimilionesima volta nella nostra vita. Immaginai Grover con i ciuffi di peli bianchi che gli spuntavano dalle orecchie, che camminava con la schiena ingobbita sostenendosi a un bastone e belava lamentandosi degli zoccoli indolenziti. E poi magari schiacciava un sonnellino su una panchina nel nostro giardino affacciato sul mare, mentre seduto accanto a lui io guardavo le onde e annusavo l'aria, facendo riposare le ossa indolenzite. Non facevo fatica a immaginare le ossa indolenzite. A dire il vero, non facevo fatica a immaginare neanche il resto. Gary si aspettava che lottassi contro di lui. E a meno che non fossi morto giovane, non potevo sconfiggere la vecchiaia. E se invece l'avessi abbracciata? Era un'idea ridicola smettere di combattere e abbracciare il geriatrico Gary. Le ginocchia cominciarono di nuovo a cedermi. Avevo forse un secondo prima che Geras mi schiacciasse contro il palo da tetherball. Allentai la presa e cinzi le braccia intorno al dio. Poi pronunciai quelle che ero pressoché sicuro. Sarebbero passate alla storia come le ultime parole più stupide di sempre. Ti voglio bene, bro.